ragazzi prima di guardare questo video soprattutto iscrivetevi, attivate la campanella perché è una cosa importante ragazzi e prima cosa volevo dirvi che a 2000 iscritti ci sarà un contest in cui ci saranno 20 euro di gift card di cosa volete di amazon, di che volete raga in palio quindi spero raga che questo video vi piaccia, soprattutto iscrivetevi raga e lasciate un bel like per questo video, 20 like raga, minimo 20 like e raga, spero che il video vi piaccia e buon di gift card e bella a tutti ragazzi, sono 2v23 e oggi ragazzi andremo a trovare il fortbyte 77 scusa ragazzi sono portato onestamente, onestamente il fortbyte di ieri raga perché non ho avuto tempo di evitare e avevo altri affari da fare raga quindi scusate e ragazzi iniziamo e ragazzi eccoci il lobby che bello raga eccoci il lobby speriamo di che non lago di ping raga no, fate aggiusti di ping raga proprio qui non deve laggare il fortbyte raga, precisamente da questo c'è un mio ofice di così da qui qui raga qui raga, io sono il genio, aiuto tutti e ragazzi faccio il taglio e ok ragazzi stiamo scendendo ecco qui il locale dove sta il fortbyte ragazzi il fortbyte si trova decisamente qui dentro ragazzi ecco qui il fortbyte prima cosa noi cerchiamo di morire voglio preparare voglio prendere questo fortbyte allora raga il fortbyte si trova precisamente qui e ragazzi il fortbyte sta qui spero raga che questo video vi sia stato utile raga soprattutto dura così poco giusto per farvi capire dove stava questo fortbyte spero che il video vi piaccia io ora lo raccomando spero che il video o l'estamenta raga vi piaccia per questo video se ci riusciamo ad arrivare a vendi like in un numero da vendi like e passano davanti e ragazzi portiamo un altro allora vi vediamo questo il numero il numero ok ragazzi eccoci qui cosa c'è lì dietro what the fuck ragazzi non ho capito una mano un braccio gg raga gg raga appena uscirà il prossimo fortbyte raga lo troveremo anche quello perché raga dobbiamo trovarli tutti tutti e raga spero che il video vi sia stato utile onestamente per questo video vendi like iscrivetevi e non dimenticatevi di condividere questo video con i vostri amici e aiutare anche loro a trovare questo fortbyte raga per favore non condivisione raga perché più siamo in un gioco soprattutto lasciate like iscrivetevi attivate la campanella per restare sempre attivi sul canale raga e spero che questo video vi sia piaciuto e si bye ciao ragazzi i've been flying from town to town from alone where am I where am I